Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 20 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Segno fortunato. Vita spericolata con gli amici. Finalmente la lunedì che aspettavate da un po', con Plutone energico e Marte grintoso, armonici al vostro segno. Simpatica anche la luna crescente, fautrice di nuove amicizie, viaggio e sentimento oggi procedono a braccetto, ma per voi non è una novità. Weekend d'amore con la dolce metà e i pupi al seguito, ancora più intrigante dopo un periodo di crisi. Clima emotivo splendido anche se l'amore non c'è ma vi basta l'amicizia, una colazione robusta e poi vi ad annusare la collina, il mare o a tuffarvi nel dedalo di Viuzze nell'antico borgo scelto apposta per rilassarvi. In serata non perdetevi uno spettacolo, cinema e teatro fanno sempre cultura. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce, si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Perché gli altri si fidano di voi occorre che prima voi vi fidaite di loro. Selezionate tuttavia gli amici. Non sottovalutate quello che accadrà oggi, soprattutto in amore, potrebbe essere la premessa a un nuovo mondo che si affaccia nella vostra vita. Se vi sentite soli, provate a uscire in compagnia e che sia buona. Difficoltà con genitori, autorità, datori di lavoro. Sii più accomodante. Gli affari potrebbero procedere meglio e il lavoro essere brillante se solo vi riuscirà di recuperare quella fiducia in voi stessi che manca da parecchio. E se sui sentimenti le giornate vi sembrano piatte, provate a scoprire nelle cose piccole le profonde gioie dell'amore. Il lavoro ti assorbirà tanto da farti trascurare le persone e ti renderà un tantino nervoso. Ti sentirà in ottima forma fisica. Contatti con persone fuori dal comune. Non riuscite più a sperare nel futuro? Cercate di darvi da fare e riuscirete ad ottenere dei risultati migliori senza far affidamento agli altri. Abbiate cura di fare voi il primo passo per chiarire con un vostro ex delle situazioni poco chiare o che comunque vi hanno lasciato l'amaro in bocca. In fondo siete voi che cercate risposte e chiedete spiegazioni. Una sana riflessione su quello che state facendo si rende necessaria. Non avete molti motivi per recriminare con gli altri quanto piuttosto con voi stessi. La cattiva sorte non c'entra per niente. Siete voi che avete fatto qualche errore di troppo. Oggi avete particolarmente bisogno di coccole, sembreranno non bastarvi mai. Ma a modo vostro poi saprete ricambiare al momento opportuno. Al vostro fianco avrete ancora per questa giornata di festa l'alleanza planetaria di Marte nel segno della riete specie se siete nati dal 3 al 12 di dicembre. Vi stimolerà a organizzare le vostre attività con saggio buonsenso e vi aiuterà ad essere fermi nelle situazioni che richiederanno prontezza di riflessi e convinzione nelle proprie opinioni. In famiglia siete presenti e responsabili in ogni questione, ogni piccola materia possiate intervenire col vostro luminoso slancio caloroso. Marte intrigono nel segno focoso della riete lassà lunga, i vostri figli sono davvero pestiferi e il partner un vero Casanova o una vera Cleopatra, abilissimi a far strage di cuore. Passione incendiaria ma non scevra da litigi in coppia, serene invece le amicizie che col giusto distacco vedono e giudicano le cose riducendo il rischio di errori, fate tesoro dei loro consigli, vanno tutti nella giusta direzione. Amore ed eros, amore, amicizia, incontri, avete proprio scelto bene il programma per questa lunedì, in compagnia di gente simpatica, disponibile, affascinante. Se partite per un'escursione in coppia tornate più uniti e con uno sciame di amici al seguito. Più felici anche i zitelloni che si presentano soli soletti ma la sera tornano in coppia. La luna oggi vi favorisce dalla bilancia e vi apre a una stagione in cui la vostra natura molto umana, calorosa, generosa ed espansiva ha veramente terreno propizio. L'amore, per voi, è infatti un bersaglio mobile, da centrare al volo con le vostre audaci mosse da aquila. Ma perché non diventi il classico cotto e mangiato state attenti a non lasciarvi scappare alcune buone occasioni che, nel bel mezzo di questa bella giornata di primavera, potrebbero farvi batter forte il cuore. Lavoro e denaro Il vostro lavoro oggi a viaggiare non è da poco. Difficile organizzare tutto a puntino, infatti ci rinunciate, scegliendo di farvi guidare dall'energia del luogo, come una passatoia rossa sotto i vostri piedi, la seguite e trovate quasi in automatico le chicche d'arte, gli angolini speciali, piccoli musei defilati. Svolgete una libera professione. Se anche quest'oggi che è lunedì lavorate, grazie all'efficienza e alla competenza di recente dimostrate, potete arrivare ad occupare posizioni di primo piano, o, addirittura, di comando. Per il momento mostrate, però anche di saper essere pazienti. Benessere In splendida forma, come sempre, più di sempre. Vi basta cambiare aria e contesto, evadere dall'ambiente quotidiano e le forze raddoppiano. Nulla vi infastidisce, fame, sete, sonno e soprattutto mai stanchezza, l'entusiasmo è il carburante che vi fa girare come trottole. Denaro Se maneggiate il denaro fate attenzione a non allargarvi troppo. Nettuno, pianeta della liquidità nel segno dei pesci, vi osteggia, in special modo se festeggiate il vostro compleanno tra il 13 e il 18 di dicembre. Per lei, il gusto del thriller non vi abbandona mai, oggi in libreria fate incetta di romanzi noir, che vi fanno mancare il fiato, mandando il cuore in fibrillazione, e viva le emozioni forti. Per lui, bello viaggiare, anche a pochi chilometri da casa, provincia sonnolenta ma ricca d'arte e spunti di cui innamorarsi. Colore delle emozioni, aragosta. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.